Wade, puoi fare di meglio. Uniscete a noi. Usa i tuoi poteri per il bene. Inseglia! Fai il supereroe. Senti, il giorno che deciderò di diventare una fighetta del cazzo, disposta a convivere con un branco di piagnoni nella villa stile Neverland di un triste, vecchio, calvo, leader mistico, figlio di una gran troia, quel giorno invierò al tuo culo lucido una richiesta di amicizia, ma fino ad allora proseguirò per la mia strada. O così, o ti sbatto come un tappeto. Wade? Ehi! Sì, tascina d'ocono! Ehi, stronspool! E spero che tu stia guardando! Colpo di sfortuna. Adesso ho posto! Oh! Oh, oh, oh! Oh, Canada! Così non va bene. Wade, ti prego. Fuglia ai cagliani! Oh! Oh, oh, non vorrei essere tua moglie. Ti conviene fermarti. Oh, cavolo! Tutti i dinosauri temevano il T-Rex. Oh! Oh! Ti assicuro che te ne pentirai, maschione! Sei imbarazzante. Ti prego, non rialzarti. Sai quella dell'uomo senza una gamba alla gara di calci in culo? Hai pulsante per spegnerti? Sì, accanto alla prostata. Oh, è quello per accendermi. Basta! Andiamo a parlare con il professore. Mecca voi o Stuart. La sequenza temporale è così confusa. Vivo o morto, tu verrai con me. Ti riprenderai, Wade. Lo fai sempre. Avete mai visto 127 ore? Allerta spoiler. Oh, mio Dio. Che schifo. Oh, e questa è la scena cut, bimba. A volte un uomo deve rinunciare a una parte di sera.